Tra le tante drammatiche storie che arrivano dai migranti sbarcati a Pozzallo ce n'è anche una lieto fine, è quella di un giovane ritreo minorenne che ha affrontato la lunga e pericolosa attraversata da solo per giungere sulle coste italiane, nella speranza di una vita diversa e con grandi aspettative, soprattutto quella di trovare qualche suo parente già in Europa. Grazie alle indagini e all'intuito degli uomini dell'ufficio immigrazione, sezione di fuggiati della questura di Ragusa, è riuscito a ricongiungersi al suo fratello maggiore che vive in Svizzera. Il ragazzo, appena dodicenne, sbaccato a Pozzallo dalla nave militare Spica a maggio dell'anno scorso e subito dopo accolto presso una struttura di scicli gestita dalla Federazione delle Chiese Evangeliche. Grazie alla presenza negli uffici del Tribunale dei Minori di un mediatore culturale di origine eritrea è stato possibile acquisire le poche informazioni che il piccolo ha saputo fornire. Da quel momento i poliziotti della sezione rifugiati politici hanno iniziato a testere la trama dei contatti al fine di individuare il fratello del ragazzo. Grazie anche alla stretta collaborazione della Fondazione delle Chiese Evangeliche tramite la responsabile della Relocation Desk di Roma, dopo vari tentativi si è riusciti finalmente a rintracciare il fratello del piccolo migrante il quale ha subito espresso la sua gioia alla notizia. Espletate tutte le procedure per il ricongiungimento tramite l'unità Dublino del Ministero dell'Interno e acquisito il parere positivo dell'ambasciata ilvetica, finalmente l'11 febbraio all'aeroporto di Zurigo il piccolo ritreo ha potuto riavbracciare suo fratello che pensava di non riuscire a rivedere mai più. Un momento molto emozionante che ha dato grande soddisfazione alle autorità che si sono occupate della vicenda.